Il T64E Quando abbiamo incominciato a studiare questo forno abbiamo voluto fare un countertop di nuova generazione che coniugasse il massimo della resa di cottura con ingombri estremamente ridotti e che avesse comunque tutte le ultime tecnologie per avere anche un consumo il più basso possibile. Volevamo che il T64E alzasse l'asticella delle performance per questa tipologia di forni e quindi vi abbiamo introdotto le soluzioni premium di derivazione dei nostri conveyor di taglia superiore. Prima fra tutti il nostro sistema elettronico Adaptive Power Technology che utilizzando il sistema PID di erogazione dell'energia combinato con due sonde di temperatura disposte sopra e sotto il prodotto in cottura permettono di erogare la giusta quantità di calore soltanto dove serve. Il PID è un controllo elettronico che permette di utilizzare solo l'energia minima indispensabile adattandosi alla quantità di carico. È l'ottimizzazione della logica di inverter utilizzata sui condizionatori però applicata al caldo. Tutto questo per ottenere la massima efficacia di cottura con la minima quantità di energia. Altra modalità introdotta è il Dual Time Technology che permette di cambiare i settaggi del forno in modo da fare cotture diversificate senza però andare a cambiare componenti meccanici ma semplicemente agendo sul quadro comandi in quanto permette di impostare temperature diverse tra cielo e platea quindi è possibile regolare a piacimento la doratura sia sopra che sotto il prodotto in cottura indipendentemente dal carico e il forno che si preoccupa di regolare la giusta quantità di calore adattandosi a quello che devo cuocere. Vista l'importanza di avere un forno che all'esterno toccandolo non ustioni abbiamo introdotto anche nel countertop il brovetto Moretti Cool Around Technology che grazie al doppio dello spessore di isolamento generalmente utilizzato dai principali competitor combinato con mini giunti termici che interrompono il passaggio del calore tra interno ed esterno ed un intercapedine in cui l'aria può circolare ci permette di avere all'esterno temperature molto basse. questo dà un doppio vantaggio il primo è quello di non sprecare energia ed il secondo di lavorare sempre con la massima sicurezza un forno se ben costruito cuoce dentro non sopra un approfondito lavoro di ricerca e sviluppo unito al know-how che abbiamo acquisito in 70 anni di costruttori di forni ci ha permesso di rendere estremamente efficaci tutte queste tecnologie in un forno della taglia del T64E che ha avuto oltretutto anche ulteriori sviluppi in quanto siamo andati a mettere a punto nuove soluzioni di lavoro come lo standby ed il nastro intelligente particolarmente utile negli spazi ristretti countertop T64E minimo ingombro per grandi performance